Stefano Allasia, che cosa sta accadendo a Torino? Quello che ci aspettavamo da anni, che la Fiat lasciasse la testa da Torino e andasse all'estero e nel futuro lascerà anche poi il corpo. Purtroppo il sistema produttivo italiano per Fiat sta risultando sconveniente per l'alto costo del lavoro e per le politiche aziendali di questo paese e anche di questo governo inappropriate al momento. Quindi Marchionne è quello che ha sempre negato e ora lo sta facendo? Sì, lo sta facendo come ha sempre fatto, dove negli anni ha descritto una situazione e poi ne ha fatto tutt'altro. Un grande giocatore di poker che purtroppo in questo caso gioca sulla pelle degli operai. Gli oltre 60.000 operai in Italia sono disarmati perché sanno benissimo che dopo il 2015, quando scadranno i contratti con le banche che hanno finanziato nel 2002 la Fiat, la Fiat chiuderà definitivamente gli stabilimenti in Italia. Questa può essere un'ipotesi. Si spera che questo governo o i futuri governi si attivino al più presto per evitare il tracollo economico del paese nell'automotiva.